L'attore è vero, ma del toro non appare che è una mezza controfigura per girare un film primo ottocento con costumi tratti dalle pitture del Goya. Più verità, chiede il regista. Ed ecco per la verità questa belva sanguinaria. Fa un po' troppo atmosfera, commentano gli attori. Ai tempi di Goya il toro si saltava con l'asta. Il personaggio del famoso matador Pedro Romero è interpretato dal Baifin, uome spada che esegue la sua parte con anche troppa verosimiglianza. Ma il suo antagonista sa che per riuscire grandi attori ci vuol testa. E allora ce la mette tutta. Il regista chiederà stop nel megafono, i colleghi intervengono a distrarre il toro. Ma lui si è affezionato alla scena, vuole replicarla. E quando ci si mette è un gran testone. Signori, qui si va sul serio. Il regista voleva la verità. Il toro sentendosi mattatore, fa il suo cosiddetto momento della verità. È soddisfatto, si sente la greta garbo dei tori.